... Grazie Allora, presidio di Torre in Pietra, ancora agricoltori in protesta, soprattutto dopo l'incontro di questa mattina al Ministero dell'Agricoltura. Che cosa è successo? Che il Ministero non ne vuole sapere nulla di noi, perciò noi andremo avanti ancora peggio di prima. In che senso? Avete fatto delle richieste molto semplici, lo avete detto anche nei vari consigli comunali di Radispoli, Cerveter e Fiumicino. Il giusto prezzo per quello che producete, rivedere la PAC, il terreno incolto al 4%, quindi in sostanza le politiche europee, non porteranno le vostre stanze nemmeno in Europa? Noi gli abbiamo chiesto, la prima cosa più importante è che noi vogliamo il prezzo dei prodotti che sia pagato per ciò che ci costa a noi, più qualcosa di guadagno. Non pretendiamo contributi, non pretendiamo nulla in più e non siamo quelli che vogliamo il vitalizio, perciò noi lavoriamo e pretendiamo solo il costo del prodotto nostro fosse pagato il prezzo giusto. E dal Ministero? Il Ministero ancora ci deve far sapere. Quindi si prevedono altri presidi, altre manifestazioni? Forse sì, forse cominceremo anche ad essere un po' più duri rispetto a come siamo stati finora. Abbiamo asteso finora ma non abbiamo avuto risposte che ci hanno soddisfatto. Grazie a tutti.